Ciao, ti voglio presentare un filettatore manuale, indispensabile per andare a realizzare le filettature per poter mettere i ramponi sui ferri di cavallo. Il suo funzionamento è molto semplice, invece di andare a utilizzare il solito filettatore, quello piccolino, molto scomodo, questo viene bloccato con delle viti. Qua c'è la parte del filetto, al solito tre ottavi wheatwork per il passo dei ferri, dei cavalli. Si inserisce qua, qua si mette sotto il ferro già bucato e sbasato, pronto per la filettatura, dopodiché, chiaramente con un ampio braccio di leva diventa molto semplice poter filettare il ferro. Con questo è tutto, grazie, ciao!